L'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, si è fatto somministrare il vaccino contro il coronavirus, il Covid-19, e lo ha fatto in diretta a TV. Il neopresidente, insieme alla moglie di nome Jill, si è fatto vaccinare con una dose del prodotto realizzato da Pfizer e BioNTech. Il video è stato pubblicato nel web, in cui si vede proprio Joe Biden che si sottopone a questo vaccino anti-Covid e è stato trasmesso anche in televisione. Biden, che ha promesso di vaccinarsi in diretta, indossava la mascherina, la maglia di colore nero e ha mandato un messaggio a tutti i suoi concittadini. Dobbiamo molto a queste persone, avrebbe detto, gli scienziati, le persone che sono riuscite a raggiungere questo risultato, chi ha lavorato in prima linea, il vaccino è stato fantastico e sicuro, fatelo tutti. Ho fatto questo per dimostrare alla gente che deve prepararsi a prendere il vaccino quando sarà disponibile. Non c'è nulla di cui aver paura. Bene, queste sono le parole del grande Joe Biden. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione. Iscrivetevi al canale e commentate. Ciao da Leandro, un narratore italiano.